Sì, io credo che oggi dall'ottavo congresso di Messina noi vogliamo rilanciare il tessuto economico e sociale della nostra città. Oggi ci saranno quasi 200 delegati rappresentativi di tutte le categorie di lavoratori, di pensionati e di pensionati della Cigile. Sarà un momento importantissimo di incontro, soprattutto di confronto, di dibattito. Noi oggi poniamo le basi per la città del futuro, ma anche una città da ricostruire, perché abbiamo bisogno assolutamente di finanziamenti per rilanciare il nostro territorio. Io credo che i fondi del PNRR siano l'ultima spiaggia affinché veramente la nostra terra si possa risollevare da un immobilismo perenne. L'autonomia differenziata credo che sia lo spacchettalia. Già noi abbiamo delle conseguenze con il gap, il divario che c'è tra i territori del nord e i territori del sud. Con l'autonomia differenziata andrebbero a aumentare questi divari, perché le regioni che chiedono l'autonomia differenziata vogliono trattenere circa il 90% delle risorse sul proprio territorio. La nostra Costituzione prevede che bisogna aiutare con la fiscalità generale i territori soprattutto più disagiati. Noi riteniamo che l'autonomia differenziata, così come la Chiempa Sorvesti e la secessione dei ricchi, non solo non sia da attuare, ma neanche da proporre al governo e ai cittadini. Dal sud rilanciamo la proposta con forza e soprattutto il nostro no a questa autonomia differenziata.